Un protocollo d'intesa, quello firmato oggi dal primo cittadino di Fano, Massimo Seri e dal direttore dell'Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale, Leandro Ventura, che mira alla valorizzazione turistica e del patrimonio culturale della città di Fano, a partire dal Carnevale e dalla cultura marinara, per poi allargare il proprio interesse ad altre specificità della storia fanese. Un progetto che prevede il supporto dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che è l'ufficio che nel Ministro dei Beni Culturali si occupa della valorizzazione e della promozione del patrimonio immateriale nazionale e che con il Comune di Fano intende portare a un approfondimento della documentazione sul patrimonio immateriale, a partire dal Carnevale ovviamente, ma anche pensando alla cultura marinara. documentazione che poi sarà utilizzata per progetti di valorizzazione in Italia e all'estero. Un altro momento importante che è un altro elemento del puzzle, di questo mosaico culturale su cui stiamo lavorando per far uscire sempre più Fano dai nostri confini territoriali, ma anche nazionali. L'obiettivo è quello di far crescere e di valorizzare questo patrimonio straordinario che la città ha tanti elementi, non sempre evidenziati e enfatizzati come meriterebbero. Questo è un ulteriore passo importante perché il MIGBAC ovviamente sappiamo tutti cosa rappresenta e cosa significa. E qui andiamo a valorizzare questo patrimonio immateriale che vola sulla nostra tradizione del Carnevale, ma anche sulla nostra tradizione legata al mare, che è un altro elemento caratterizzante e forte della nostra città. Una collaborazione che sin da subito si concentrerà sul percorso che dovrà portare il Carnevale di Fano a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO e che valorizzerà il capitale culturale cittadino per sfruttarne il ritorno turistico e per far conoscere Fano in tutto il mondo valorizzandone gli elementi distintivi. Il nostro patrimonio immateriale possa incidere sulla macchina turistica comunale, proprio ieri siamo stati a Porto San Giorgio a vedere i lavori che già l'Istituto Centrale insieme all'Università della Sapienza di Roma hanno iniziato a fare per la valorizzazione del comparto marinaro che è già veramente un punto di attrazione veramente importante. Direi che un rapporto diretto con il Ministero è molto importante per la nostra città.